Benvenuti a tutti a questo nuovo episodio della review di Rampage, buon sabato, domenica, insomma dipende quando lo state guardando. Io sono Stefano, la voce di IW Italian Podcast e oggi partiamo subito a bomba dicendovi che Rampage è stato molto molto divertente, intrigante e molto sulle storie degli Ill. Andiamo con ordine perché al di là di un segmento che voglio ovviamente sottolineare, il resto è stato tutto abbastanza da pannaggio degli Ill. Il primo match è l'Elite contro un trio diciamo compreso nel firm ma che non è un trio vero, cioè Ethan Page, cioè Isaiah Cassidy e Matt Hardy. Cassidy e Hardy sono in un giro particolare verso il face mentre Ethan Page è Ill per eccellenza ed è anche un Ill non solo sbrufone ma anche un po' maldestro su certi aspetti, ma fin lì tutto a posto. Dall'altra parte però l'Elite non è che è propriamente face quindi, quindi niente, lottano bene in modo corretto in fondo però anche con qualche minimo aiutino, no? Sfruttando la confusione e il caos che c'è dentro questo tipo di match ed è molto positivo vedere come si sviluppa, un match che viene molto bene anche se appunto il trio avversario rispetto ai campioni è affazzonato e buona anche la storia raccontata. Si va avanti con ciò che abbiamo visto magari nei programmi minori Dark e Dark Elevation e anche in alcuni skit all'interno degli altri Rampage e Dynamite con Ethan Page che ha la proprietà del contratto di Matt Hardy e dei private party. E in qualche modo le cose non dovranno andare bene, nonostante Matt Hardy si prodighi per fare il suo meglio proprio insieme a Ethan Page. E' il nostro meglio quello che facciamo ogni volta che vi portiamo dei video, dei contenuti e quindi vi chiediamo di aiutarci con un like, con un commento, insomma in qualche modo dateci supporto. Sono tutte cose gratuite o se volete spendere proprio due soldini, due potete sempre abbonarvi al nostro canale perché è una cosa molto molto importante per noi, ci aiuterebbe economicamente a sostenere anche tutte le spese di questo progetto e anche per il fatto che noi comunque ci dedichiamo tanto tanto tempo, quindi è evidente che più tempo ne dedichiamo più abbiamo bisogno di recuperare qualcosina. Però a vostra discrezione a noi fa piacere anche soltanto sapere che ci state pensando, che magari state valutando l'opzione di darci una mano anche i due euro al mese. Andiamo oltre però perché dobbiamo parlare di un segmento che è il segmento Face che è quello di Ricky Starks il quale accetta ovviamente la sfida, la Garcia Guevara Countlet che hanno spiegato Dynamite, vi ricordo abbiamo parlato diffusamente anche all'interno dell'ultimo Elite Friday che è l'ultimo video uscito, lo trovate qua dietro alle vostre spalle. Sostanzialmente quindi ci sarà questa sfida accettata da parte di Ricky Starks e vedremo come andrà perché ovviamente a parte che si inserisce in un contesto di una puntata assolutamente ricca però non è solo quello il punto, insomma dobbiamo vedere un attimino perché è uno sviluppo continuo di questa faida che dovrebbe portare verosimilmente Starks e Chris Jericho, a lottare in pay per view magari verso una liberazione di Garcia che è quello che stiamo aspettando, una liberazione che sembrava essere a un certo punto lì pronta per avvenire poi adesso è stata accantonata verso questo momento super idilliaco da parte di Garcia all'interno della GES ma secondo me non è esattamente quello anzi è proprio questa quiete che nel nostro caso sarà prima di una tempesta vedremo ma ne riparleremo sicuramente ci sarà da riparlarlo abbiamo visto il match di Swerve Strikeland contro Brian Pillman, un match abbastanza buono in realtà Brian Pillman non mi convince sul ring quindi non mi dà neanche tantissimo è un build per quella che sarà la situazione Swerve contro Dustin Rhodes che sarà la situazione che porterà al ritorno di Kate Lee e verosimilmente vedremo Swerve contro Kate Lee magari in pay per view sarà particolare quantomeno al momento comunque avremmo un Brian Pillman, un Dustin e avremmo anche un la possibilità eventualmente di avere Kate Lee lì ce ne sono tre anche una faida che parte con un 3 contro 3 non la vedo nemmeno così assurda se voi mi chiedete cosa preferisco beh io preferisco l'uno contro uno sicuramente di Lee contro Swerve però cosa dobbiamo fare? se si va in una certa direzione accettiamo anche quello che c'è poi vediamo le storie sono sempre da raccontare con tanto tempo e bisognerebbe poi fare a consuntivo cioè alla fine di tutto dire com'è andata realmente quali erano i dubbi come man mano si sono o arricchiti questi dubbi sono diventati dei dubbioni oppure come si sono dipanati sono diventati invece una cosa molto più normale molto più tranquilla sul versante femminile invece abbiamo visto Saraya e Tony Storm battere le due Renegade anche lì due Renegade io continuo a dirlo prendetele, mettetele sotto contratto in modo costante, serio sono brave fanno bene il loro ruolo non stiamo parlando di main eventer non stiamo parlando di worker che possono veramente essere affidabili in questo caso hanno cercato di giocarsela da face e ci sono abbastanza riuscite in parte perché sono state brave a fare le hill e le altre due ma comunque sono riuscite a interpretare abbastanza bene il ruolo alla fine bombolette la scrittelle sulla panza praticamente Tony Storm e Saraya hanno aperto ancora di più a quello che sarà il percorso che dovremmo vedere vi da un percorso ve lo dico da un certo punto di vista positivo perché andiamo verso più donne inserite all'interno della faida e quindi la divisione femminile in realtà sta crescendo è ovvio che dobbiamo accontentarci di vedere la prima fogliolina dell'albero e dire ah ah arriva la primavera e poi magari capita ancora una nevicata ma 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 quando comunque c'è la prima foglia dell'albero insomma in Giappone per vedere se arriva la primavera guardano il Susino ok che è considerato l'albero coraggioso perché tira fuori le foglie quando ancora comincia a esserci un po' di inverno devo dire che effettivamente l'arrivo di Saraya io credo che abbia portato nero su bianco dei cambiamenti che Tony Khan ha accettato di fare anche grazie proprio all'arrivo di Saraya che gli avrà probabilmente detto io arrivo vengo però però tu dammi una mano veramente a far crescere la divisione perché altrimenti non ci siamo e vedremo perché per il momento i segmenti e le situazioni sono aumentate per ora va bene anche se c'è tanta quantità poi la qualità arriverà poi è chiaro se ti guardi la settimana scorsa G-Mater contro Amisacora c'è pure la qualità però cominciamo cominciamo da lì interessante ovviamente anche la questione main event dove c'è Rush che dovrà affrontare Brian Danielson e qua comincia con Christopher Daniels un match normale per i ritmi e le situazioni le possibilità che può utilizzare oggi Christopher Daniels io probabilmente lo sapete ormai da anni Christopher Daniels è stato uno dei miei lottatori preferiti e credo che sia stato uno dei migliori performer di tutti i tempi sempre troppo poco considerato nelle classifiche di gradimento ma molti match della Madonna sono venuti perché lui era all'interno di quel match quindi poco da dire poi è ovvio che AJ Styles ha fatto una carriera molto più lanciata è ovvio che Samoggio anche per l'aspetto fisico e la dicotomia tra il suo aspetto e le cose che sapeva fare diventa molto evidente però ragazzi Christopher Daniels è stato un performer della Madonna adesso a mezzo servizio più o meno ha comunque raccontato una buona storia con Rush Rush che continua a piacermi tantissimo buono anche gli interventi esterni dei suoi di José The Assistant e anche di Perro Peligroso direi che non è andato affatto male tirando insomma un pochino così le file del discorso Rampage è stato molto gradevole l'ho visto dal letto mi sono svegliato con il cellulare ho guardato attraverso Fight e devo dire che mi ha aiutato a svegliarmi a tirarmi su a essere qui a raccontarvelo bene buon prodotto credo che stia ragionando molto bene Tony Khan su come mettere giù le cose e fa delle puntate dove ci sono magari qualche promo e qualche situazione un po' più intensa e altre invece dove ci sono meno un'altra cosa per chiudere poi il nostro ragionamento c'è stato anche un segmento dedicato alla House of Black la quale dice non fatevi strane idee sull'House of Black che fa arrivare Eddie Kingston non è quello che vogliamo il nostro intento è farvi vedere la realtà cioè quelle persone che hanno il cuore nero devono venire fuori e farvi vedere che hanno il cuore nero devono attirare fuori quello che sono veramente e questo è stato il motivo per cui hanno stuzzicato Eddie Kingston per farlo diventare un po' più padrone della sua vita perché ti fa vedere chi è effettivamente e com'è effettivamente la sua vita interessante questa svolta da parte dell'House of Black è che a questo punto quale sarà la prossima vittima dell'House of Black o il prossimo liberato dell'House of Black e questa è una cosa molto interessante quindi bravi l'hanno tirata su bene anche questa storia credo che meriti un pollicione in alto mi raccomando non perdete i prossimi video che faremo sono tanti avremo tante cose di cui discutere di cui parlare non vedo l'ora c'è un sacco di roba bellissima è un bellissimo momento stiamo andando poi verso l'Evolution tutto molto bello tutto molto importante non posso far l'altro che ringraziarvi di cuore per aver seguito questo video ricordarvi che abbiamo anche un gruppo Telegram assolutamente gratuito e libero a tutti trovate il link in descrizione veniteci a trovare e come sempre se siete arrivati alla fine di questo video grazie mille ci state aiutando tantissimo anche con le visualizzazioni a tenere alto insomma il nostro canale grazie davvero di cuore io sono Stefano la voce di IW Italian Podcast noi ci risentiamo alla prossima devo chiudere chiudo grazie a tutti